E' un messaggio molto importante, la prima uscita della Giunta Nazionale in un luogo simbolo per la Calabria, che è Tropea, Borgo dei Borghi. Un momento importante per parlare di turismo, per parlare di ripresa, per essere coscienti che la ripresa dovrà passare dai borghi e dovrà passare dalle proloco. Questa è stata un po' la volontà che abbiamo avuto nel momento in cui abbiamo deciso di fare questo momento così importante in Calabria. Lo abbiamo fatto anche per onorare il grande lavoro che sta svolgendo in questo momento il Presidente regionale dell'Umbli, Pippo Capellupo, che stanno svolgendo le proloco calabresi che sono veramente a fianco di tutte le realtà, che stanno dando prova di grande fermento e in un momento come questo che ci ha visto un po' tutti in ginocchio a causa di questa maledetta pandemia, che ha visto un meno 80% dei nostri eventi, ma che ha dato anche la prova concreta del grande valore delle nostre realtà, in quanto il 65% ha reagito, ha reagito in modo forte, dando prova di grande attaccamento al proprio luogo e con iniziative trasversali, ma tutte finalizzate a dare aiuto ai più bisognosi, a mantenere le comunità, ad essere protagonisti di questo momento così complicato e a rendere sicuramente ancora di più forte il concetto che i volontari delle proloco sono indispensabili e lo sono proprio in questi momenti così difficili e senza di questi sicuramente questa pandemia avrebbe dato ancora molti più problemi. Ma parlando appunto della giornata di oggi, rappresentiamo ecco al meglio il grande lavoro svolto dall'amministrazione comunale di Tropea, dalla Presidente Maria Antonietta che ha veramente avviato un bel lavoro con la proloco a Tropea e con tutte le proloco calabresi che a fianco di questa bella realtà puntano a rilanciare il turismo in Calabria e a ripartire veramente in modo concreto per una stagione che dovrà essere veramente di grande ripresa per l'economia delle comunità. Sì, assolutamente, questo è un concetto molto forte perché il nostro mondo ha dei principi assoluti che mette in risalto, che valgono molto di più rispetto a quello che magari può essere un concetto concreto e l'unità di intenti è il motore della nostra organizzazione. Siamo tutti uniti per far fronte comune su questi importanti momenti di grande sviluppo unità di tutta la struttura che ha dato grande forza in questo periodo di pandemia grazie a importanti momenti che abbiamo avuto come ad esempio la proposta di riconoscimento del volontariato a patrimonio immateriale per il valore svolto nei nostri contesti un grande valore importante che stiamo portando avanti anche grazie al lavoro svolto nell'ambito del terzo settore, un momento decisivo anche per il futuro delle nostre realtà che dà ancora di più forza alle nostre organizzazioni. Valore che ci è stato riconosciuto e ringrazio il ministro Orlando per la fiducia riconfermata nella mia persona ma anche nell'UMPLIN, in tutta la nostra organizzazione riconferma all'interno del Consiglio nazionale del terzo settore che è il Parlamento del terzo settore nel governo che vuole dare un simbolico indirizzo per il mondo del volontariato ma soprattutto nel mondo del volontariato turistico e culturale che è quello che rappresentiamo noi. Noi stiamo affrontando la riforma del terzo settore partendo appunto dalla porta principale l'UMPLIN diventerà una grande rete, la rete delle Proloco d'Italia che sarà sicuramente una delle più grandi reti nazionali operative in tutta Italia.